Il piano anti-Xylella procederà come previsto. Nei prossimi giorni via alle eradicazioni delle piante infette e via soprattutto alle arature, anzi prima di tutto alle arature. Il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina lancia da Bari, al termine di una riunione prima politica e poi tecnica, l'appello a tutti gli agricoltori e alle istituzioni affinché entro 15 giorni da ora tutte le operazioni di aratura dei terreni siano completate. A maggio l'insetto vettore, la sputacchina che diffonde il batterio schiuderà le uova e la situazione non potrà che peggiorare. È inaccettabile immaginare che una aratura sia impossibile da fare in una situazione così. Dimostriamo tutti che concretamente questo piano ha una fase operativa fatta anche di interventi non invasivi che sono oggi più utili di tante discussioni che stiamo facendo sui giornali sulle tv. Nelle prossime settimane Bruxelles ci farà l'esame e le conseguenze possono essere drammatiche. Allora la prima cosa è arate, arate, arate. Capitolo eradicazione. Il commissario Silletti ha dettato i tempi, partiranno subito, ha detto, mentre il ministro ha aggiunto non saranno più di 35.000 le piante da eradicare ma sacrificandone alcune, ha detto, si salveranno le altre. E quanto ai fitofarmaci ha commentato, non arriveranno gli aerei in stile Apocalypse Now ma saranno utilizzati i prodotti che da sempre sono usati in agricoltura. Tanta più forza si metterà nell'attuazione del piano, ha detto ancora il responsabile dell'agricoltura, tanta più forza si avrà per andare in Europa e portare a casa un risultato sul quale si sta lavorando. Chiedere direttamente per la prima volta nella storia dell'esperienza dell'Unione Europea magari un meccanismo di indennizzo e di attivazione diretta verso l'agricoltore colpito da un problema fitosanitario di questo tipo. Accanto a questo a livello nazionale si sta lavorando ad una deroga alla norma che darebbe la possibilità di accedere al fondo di solidarietà per le calamità naturali che ad oggi è precluso per i danni fitosanitari. Fra 15 giorni il tornerà per verificare lo stato di avanzamento del piano e chi non lo attuerà andrà incontro a sanzioni perché interverrà d'ufficio l'ARIF. L'ultima battuta è stata per l'embargo deciso dalla Francia, una scelta inopportuna, ha concluso il ministro prima di lasciare Bari per Lecce, che non fa bene all'interesse complessivo della comunità.